Buongiorno a tutti ragazzi, qui è Arduino Schianato da Airforex.com e in questo breve video voglio spiegarti qual è la mia visione sull'indice americano Standard & Poor's 500 per i prossimi giorni e le prossime settimane. Come sapete il mio studio dei grafici va sempre in ottica multi-day nel guardare la big picture per poi entrare un po' più nello specifico, magari attraverso un grafico daily e cercare quindi delle conferme per fare dell'operatività. Quindi andiamo a guardare quello che ci sta dicendo in questo caso il grafico dello Standard & Poor's 500, alla mia sinistra vedete il grafico settimanale e alla mia destra il grafico giornaliero. In realtà voi lo vedete qui qua sopra, quindi trovate la view, un po' più di ampio respiro e nel breve cosa sta accadendo. Allora io partirei guardando il grafico settimanale che come potete notare ci mostra una assoluta forza di questo mercato dello Standard & Poor's 500 sia negli ultimi tempi, ovviamente qua si arriva da un uptrend di molto più lungo respiro ma io parliamo dell'ultimo anno, anno e mezzo quindi c'è stato questo grande movimento ribassista di marzo-febbraio dell'anno scorso per poi un recupero con tutti i vari swing molto chiari che si notano appunto sul settimanale. Cosa è successo? La settimana delle elezioni americane, settimana di alta volatilità il mercato ha portato una nostra struttura, una conferma della struttura long con un FTV power con aumento di volatilità e recupero praticamente dei massimi precedenti di forza. Questo è diciamo già un punto a favore sul fatto che la struttura precedente che era una struttura dinamica long con già dei pullback creati quindi delle ossigenazioni ha creato diciamo una conferma in più che il mercato possa salire. Detto questo vado a vedere quello che è successo poi successivamente quindi abbiamo avuto una settimana di rottura dei massimi fatti appunto dalla settimana del 2 novembre e poi adesso stiamo praticamente in recupero. Quindi andiamo a vedere il daily poi più nello specifico ovviamente questo poi diventa il time frame più operativo dove magari si può cercare delle conferme di quello che è la dinamica settimanale e noteremo che in effetti il mercato adesso dell'S&P 500 si sta consolidando sopra dei livelli importanti che sono in realtà al momento questi cioè i livelli che prendono i massimi precedenti quindi 3.500 e 10, 3.500 e 12 questa zona qui quindi già questo conferma ancora di più la forza che c'è su questo mercato dopo la rottura dei massimi precedenti con questo settimanale e in realtà anche tutta la struttura precedente questo è l'ultimo swing low quindi l'ultimo swing di minimo per portare su. Quindi che cosa mi potrei aspettare adesso? Ma prendendo proprio tutta l'ultima gamba da 0 a 100 del movimento rialzista quindi l'ultima bullish leg eccola qui che si può notare qui e prendiamo quello che è il ritracciamento eccolo qua che può avvenire su questo mercato noteremo che abbiamo una zona particolarmente chiave che va tra il 38,2% di ritracciamento ripeto dal minimo al massimo passando per un 3.450, 54 e un 3.461,8 tra l'altro se voi notate queste zone io le ho segnate perché sul settimanale avevo due aree di chiusura importante short nelle ultime, negli ultimi, nell'ultimo anno, anno e mezzo quindi in linea di massima queste zone sono sia a livello importante di price, di prezzo ma anche aree importante di possibile riacquisto, di possibile ritorno dei compratori sull'S&P 500 quindi io mi sento molto tranquillo di fare una certa cosa di questo tipo quindi vado a prendere un rettangolino, gli metto un po' di verde e per me quel rettangolino lì è un rettangolino dove nelle prossime settimane, nei prossimi giorni andrò a ricercare degli spunti long nel caso in cui avvengano su grafico daily su grafico daily che ovviamente mi dovrà confermare con per esempio una bullish pin bar un inside bar, un inside fake out qualcosa che dei 2-3 input che io utilizzo di più che mi indichi la conferma di ritornare lungo su questo mercato dov'è che andrà a fallire o può fallire la mia view? la view va a fallire bene o male al di sotto dei 3200 punti quindi sotto questa zona, soprattutto in chiusura weekly allora probabilmente si potrebbe aspettare un movimento un po' più repentino verso il basso in area 3000 anche un po' più sotto ma adesso ovviamente il prezzo è questo 3546, 3550 quindi stiamo su una certezza al momento che è il fatto che il mercato rimane forte, rimane sopra i livelli rimane su questo livello, su quest'area e quindi i ritracciamenti, i movimenti di ribasso che dovessero venirsi a creare nell'S&P 500 nelle prossime settimane, nei prossimi giorni non possono essere altro che, a mio avviso, delle buone ossigenazioni per andare invece a ricercare poi degli spunti long questa, e concludo, però deve essere, come dicevo prima confermato da un input sul daily non sotto al daily per cercare dei long quindi non sto dicendo che su queste aree io comprerò l'S&P 500 sto dicendo che su queste aree vedrò come si comporta la price action e poi deciderò il da farsi è molto importante perché nel mio stile di trading nel nostro approccio al trading che abbiamo anche in eAR Forex ovviamente è assolutamente importante andare a dare, come dire, estrema attenzione e importanza alle conferme che avvengono sui mercati quindi weekly e daily sono sicuramente due time frame che ci danno un'impostazione molto buona per cercare appunto day trade detto questo, prima di salutarci voglio invitarvi al prossimo corso che faremo l'11 e il 12 dicembre corso Vita da Forex Trader faremo due giornate tutto online tutto registrato quindi se non riuscirete a venire online in quella giornata o in quelle due giornate o venire solo una parte comunque ci sarà la registrazione per tutti gli iscritti e come potete vedere saremo io e Antonio che come potete vedere al programma del corso faremo una giornata il venerdì 11 dicembre dalle 3 alle 7 della sera con tutta la parte diciamo un po' più tecnica della price action e il giorno dopo il Traders Mindset Day dalle 8.30 alle 12.30 sabato mattina con tutta la parte di Mindset Consapevolezza e Mindset Model con addirittura il bonus dell'ebook piano di atteggiamento e comportamento trovate il link per iscriversi direttamente sulla descrizione di questo video YouTube quindi andate sotto trovate la descrizione trovate il link trovate tutte le informazioni e se vorrete potete direttamente iscrivervi da lì per qualsiasi cosa rimaniamo disponibili su infochiocciariarforex.com vi chiedo di lasciare un bel like di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e a questo punto vi saluto e vi auguro una buona giornata e un buon trading simple ciao a tutti grazie a tutti